Riapre i suoi forni una delle storiche pizzerie della città di Cava dei Tirreni, l'Aquila d'Oro. La migliore pizza degli anni 70 torna a far parlare di sé con una nuova gestione. Era nel 2014 che i clienti lamentavano tristemente la chiusura delle porte del giardino di Zio Pietro. Il ricordo delle pizze consegnate separate da bacchette di canna rendeva nostalgica la visione di quelle porte ormai chiuse. Chi rievocava il profumo di basilico, i palloni che una volta finiti nel giardino venivano riconsegnati i forati, può nuovamente tornare a riassaporare la storia e le tradizioni che il titolare Carmine Ferro ha voluto lasciare intatte. Ieri sera, al taglio del nastro, oltre alla storica famiglia che ha aperto il locale nel periodo del dopoguerra, erano presenti anche i trombonieri senatore, che con squillo di chiarine e rullo di tamburi ha accompagnato il lieto evento.